Facendogli rivedere un Tour de France del 65 dove Gianni Mozza arrivò terzo, proprio a Gap vinse Fezzardi, che lei conosce benissimo, il Fez, Giuseppe Fezzardi. Guardate le immagini che siamo riusciti a recuperare, la tappa era la Carpentras-Gap, giusto? Con il col della Sentinelle da fare nella fase centrale dove Van Loi perse tutto. Vediamo proprio le immagini. Ecco, questa è l'ascesa del col della Sentinelle, con la maglia Molteni c'è proprio Gianni Motta, in giallo c'era Felice Gimondi e questo il col della Sentinelle, fuga a due, Fezzardi e Desmè. Sì, Fezzardi e Desmè hanno attaccato proprio su questa salita, teniamo conto che il giorno prima si era arrivati sul Mont Ventoux come quest'anno e Pulidore aveva messo in difficoltà Gimondi, ma Motta era stato bravissimo a restare con Pulidore. E qui nel finale, Fezzardi e Desmè, Desmè era uno dei famosi protagonisti della guardia rossa di Rig Van Loi, Gilbert Desmè aveva vestito anche la maglia rosa ed era favorito in questo sprint a due contro Fezzardi. I due se ne vanno, Motta è dietro che controlla questa azione del suo caro amico Fezzardi. Il giorno dopo si arriverà Brianson e Gianni Motta sarà ancora lì protagonista e verso Brianson sull'Isoar Motta staccherà sia Gimondi che Pulidore, arrivando secondo dietro a Joachim Galliera che rinfuga. E qui sono i due fuggitivi. Ma guardate cosa farà Fezzardi, ecco la volata, Desmè pecca di presunzione, Desmè sulla sinistra, guardate alza il braccio e Fezzardi invece pedala sul traguardo e lo brucia per pochi centimetri. Merito Fezzardi perché è sempre stato un buon compagno di squadra, ne ha avuto i tanti, tipo Onimo Peppo è uno di quelli. Fezzardi ingiustamente viene definito Gregario perché ha vinto una Trevalli-Varesino, un giro di Svizzera, tappa al Tour, voglio dire, è stato un fior di corridori. Era bravissimo, ero assieme. Ecco, vedete Van Loi, uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo, sul col della Sentinella andò alla deriva. Questo è Gimondi in giallo al termine di quel Tour, primo Gimondi, terzo Gianni Motta. Abbiamo poco tempo Beppe, cosa hai preparato ancora di Gianni dalle Techerai? Ma direi di far vedere quando batte Mersi in una premondiale nel 72, la terza in ordine cronologico, c'è la corsa bellissima. Subito con le immagini. La premondiale 1972, guardate, siamo nelle zone varesine, qui c'è Gianni Motta, c'è Bruyere, ci sono tutti, stanno preparando il mondiale di GAP 72, quello famoso di Bitossi e Basso. Quindi non è la Trevalli? Non è la Trevalli, è una premondiale, guardate Mersi in maglia Molteni, Gianni Motta e Gimondi, Sant'Ambrogio, il povero Sant'Ambrogio, Motta è in maglia Zonca, coreano della Zonca, 1972, attacca in salita nel finale, guardate, gli resiste solo Mersi. Finale a due, Motta e Mersi, staccati Gimondi, staccati tutti gli altri protagonisti, guardate la grinta di Mersi che non si rassegna, anche se è una premondiale per gli italiani, si arriva in pista a campione d'Italia e guardate lo sprint di Gianni Motta che riesce a battere Eddie Mersi. Premondiale 1972, primo Motta, secondo Mersi. Che belle immagini, anche come nitidezza. C'è tempo ancora per un documento? Ma certo, è... Giro 66? Giro 66, giro 66, bellissimo. La perla della carriera. Sì, il momento più alto della carriera di Gianni Motta che riesce a battere e a precedere la classifica finale, Jacques Anquetil, Felice Gimondi e tutti gli altri protagonisti. Guardate qui, con Ziglioli, questa è la tappa di Moena, sul passo di Lavazze passa primo Gianni Motta che già è in maglia rosa, resistono con lui Ziglioli e il grande... Stava nevicando. Nevicava, brutto tempo, Ziglioli che cerca ancora di andare all'attacco che è secondo in classifica, Gianni Motta tranquillo lo controlla e alle spalle dei due arriva il grande, Jacques Anquetil. Guardate, Jacques Anquetil rientra nel finale su Motta e su Ziglioli, volata a tre a Moena. Sai che cosa continuo a dire io? Che questo Giro d'Italia l'ho vinto sul Mont Ventoux. Sì, l'anno prima, sì. Ah sì? Eh ma spieghi, c'è il motivo perché sul Mont Ventoux del 65 io ho visto questo corridorino che si chiamava Gimeles ma non lo conoscevo e questo qui scattavo io continuavo a inseguirlo fin quando che sono saltato. L'anno dopo nel 66 quando scattavo lo lasciamo andare e lo riprendevo. Guarda il finale, guarda cosa combini. E quindi non è andato fuori Giro. Andiamo pure avanti con le immagini, guardate il finale di questa tappa di Moena. Motta è già a Magliarosa, aveva già vinto a Levico e guardate anche Till si impegna per vincere almeno la tappa ma Gianni Motta batte anche Jacques Anquetil. Primo Motta a Moena, secondo Anquetil e terzo Italo Ziglioli. E la definitiva affermazione, c'è una bellissima immagine di Motta sul palco in Magliarosa, adesso la vedremo. E la definitiva affermazione, se arriva a Trieste quando ci sarà quel cartello, quella striscione, Motta lassù qualcuno ti ama perché erano sei anni che era mancato Fausto Coppi. Guardate Gianni Motta, 23 anni e vince il Giro d'Italia. Lei è stato veramente un fior di corridore Motta, complimenti. Se poi la racconta Beppe Conti, ed è un signore in bicicletta e giù dalla bicicletta. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.